Musica Sindaco Alfieri, 45esima edizione del Carnevale di Agropoli, un appuntamento che si rinnova e un successo soprattutto che si rinnova Ma certamente, credo che quest'anno ci siamo superati, nel senso che è una manifestazione che cresce sempre di più La qualità dei car e soprattutto il successo nella partecipazione, migliaia di persone, il tempo ci ha aiutato, speriamo che ce la fa completare Però oggi siamo all'ultimo giorno, davvero un successo dovuto al lavoro, alla passione dei carristi, delle associazioni che collaborano Ovviamente noi come amministrazione comunale sosteniamo con risorse ingenti rispetto a quelle che sono le possibilità attuali della finanza pubblica e locale Però siamo contenti perché nel mese di febbraio portare migliaia di persone al nostro paese, credo che sia un successo Rione Moio 2 E allora perché qui si festeggia, saltellano tutti? Perché naturalmente non c'è bisogno di parole, quindi zero parole Perché già si è capito che prima classificata nella 45esima edizione di questo Carnevale Città di Agropoli Coppa offerta da 4G Energia, luce e metano a portata di mano Vince questa 45esima edizione del Carnevale Città di Agropoli Eredita con zero parole